Facciamo riaprire i centri estivi per i nostri bambini e la proposta inviata al presidente della regione Campania da parte dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Castellabate Elisabetta Martuscelli. Ho scritto al presidente della regione Vincenzo De Luca in merito alla ripartenza del centro estivo, un presidio indispensabile che da anni garantiamo nel nostro comune. Mi sono fatta portavoce delle istanze dei tanti genitori che soprattutto in estate in una località turistica come Castellabate inizieranno a lavorare con difficoltà crescenti visti i tempi difficili dati dalla situazione d'emergenza sanitaria. Adesso è fondamentale dare risposte chiare di supporto alle famiglie, sottolinea l'assessore che stanno affrontando già da mesi le difficoltà dovute alla chiusura delle scuole. Mi auguro, conclude l'assessore, di ricevere una pronta e positiva risposta da parte della regione.